gentili telespettatori buona giornata a controcorrente di maio attacca la meloni dice a draghi bastava sedersi lei invece di che cosa sta parlando ospite da veronica gentili su rete 4 nella puntata del 19 agosto lui si dice convinto che il suo partito impegno civico andrà ben oltre il 3 per cento invece lo dice per darsi un tono ma è un partito da zero virgola qualcosa poi lui non vuole candidarsi nella zona di napoli o a pomigliano dove è nato perché lì non lo vota più nessuno allora vuole candidarsi in qualche collegio sicuro al nord dove 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 regna magari il pd in toscana ecco lui vorrebbe un bel sapete che i parlamentari possono candidarsi in qualsiasi parte d'italia con la legge che c'è adesso e così lui vorrebbe candidarsi in un collegio sicuro dove il pd gli dice guarda ti candidiamo qua sei sicuro che diventi un parlamentare e altri cinque anni c'è il tuo stipendio perché di maio il suo obiettivo è quello di mantenere il posto di lavoro anche perché di maio se esce dalla politica che va a fare niente cosa volete che faccia di maio non so se fossi lui sarei veramente preoccupato se finisce la cuccagna della politica ma che lavoro vado a fare che tornato torno a fare che cosa beh lui attacca giorgia meloni perché oggi per farsi bello con letta bisogna attaccare la meloni lui non è che attacca la meloni perché vuole attaccare la meloni o perché chissà magari il suo partitello impegno civico arriva al 50 per cento lo fa per mettersi in mostra con letta perché secondo lui sta facendo un servizio a letta dice guarda 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 come attacco la meloni letta ascolta e ascolta e ascoltami bene come dire letta è diventato il capo di di maio e dice così di maio chi si candida a sostituire draghi io vedo giorgia meloni che deve rassicurare in quattro lingue ma io ho lavorato con draghi e a lui bastava sedersi per rassicurare giorgia meloni ha proposto di rinegoziare il pnrr in europa diranno che la solita italia che invece di rispettare le scadenze vuole rinegoziare e noi questo non ce lo possiamo permettere caro di maio guarda che nel pnrr c'è un articolo che dice che gli stati possono rinegoziare il pnrr se qualcosa è cambiato di nel quadro generale in realtà è cambiato l'inflazione all'otto per cento nessuno lo ha prevista pertanto l'inflazione all'otto per cento ha fatto sballare tutti i preventivi per per gli obiettivi quindi è ovvio che un piano debba essere ricontrattato rinegoziato perché sennò si va a sbattere come fai a realizzare un ponte quando il preventivo ormai non lo puoi più rispettare perché i prezzi delle materie sono cresciute dell'otto dieci undici quindici per cento non puoi e allora nel pnrr c'è un articolo che dice che il piano può essere rinegoziato non c'è niente di male solo che come vi dicevo prima lui deve attaccare la meloni per farsi vedere dal suo capoletta e ovviamente non sapendo cosa dire su giorgia meloni si prendono le ultime dichiarazioni e si e si racconta una tesi opposta che in questo caso ad esempio non ha nessun fondamento bene a draghi bastava sedersi per rassicurare perché era stimatissimo in europa conosciuto in tutto il mondo la meloni viene descritta come estrema destra e aizzata dai giornali di sinistra dei politici di sinistra pertanto ha dovuto andare a parlare in tre lingue non sono quattro caro di maio ma erano solo tre lingue e ha dovuto farlo ma il ministro degli esteri di missionario parla anche delle possibili ingerenze della russia dice se un altro paese comincia a dire a noi italiani per chi dobbiamo votare il primo dovere è dire fatti gli affari tuoi inoltre dire russia in questo momento significa parlare di gas e di energia il prezzo del gas prima di questa crisi era 40 euro adesso siamo a 250 dobbiamo riuscire a ottenere il tetto sul prezzo del gas e mi preoccupa su questo il silenzio e la timidezza di conte e salvini cosa c'entra conte salvini col gas forse vuole una presa di distanza di conte salvini dalla russia ma come dicevamo la russia ha detto la sua quindi in realtà non è che un altro paese dice cosa dobbiamo votare è un politico straniero che dice cosa dobbiamo votare ma chi vota sono gli italiani gli italiani in realtà neanche ci hanno fatto caso a quello che ha detto questo noi che parliamo di politica tutto il giorno in questi giorni lo abbiamo appreso dai giornali ma realmente quelli che che non seguono assiduamente la politica non sanno neanche chi è questo che ha detto questa roba allora non influisce minimamente sul voto degli italiani su questo non c'è dubbio quindi è inutile neanche rispondere fatti gli affari tuoi basta ignorare e fare pochi articoli di giornale ma voi sapete che questi articoli servono per la causa della sinistra contro il centrodestra e poi di maio dice ho proposto in questi giorni a tutti i leader di prendere posizione sul prezzo del gas per mettere in difficoltà putin volete mettere un tetto del gas dire putin tu il gas ce lo vendi a questo prezzo e quello vi chiude il rubinetto lo vende da un'altra parte finito finito il prezzo del gas il tetto al prezzo del gas e poi aggiunge di maio dobbiamo creare subito dopo il voto una commissione di inchiesta per vedere chi sia collegato con mosca ma basta di maio ma quale commissione di inchiesta per chi sia legato con mosca ma 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 quale commissione di inchiesta pensate ad alzare gli stipendi degli italiani queste cose qua ancora e poi attacca il leader della lega e conte dice l'ambasciata di mosca roma voleva pagare il viaggio salvini ancora e da mosca hanno detto bravo a conte perché con il suo partito che io ho lasciato stava sostenendo una risoluzione che era più favorevole alla russia vabbè insomma ancora naturalmente salvini con tutte le cose che fa poi gliele rinfacciano per l'eternità no salvini che doveva farsi pagare il viaggio dall'ambasciata russa come ma dico io un minimo di ma come come puoi pensare di farti pagare il viaggio dall'ambasciata russa vabbè insomma gli altri lo criticano ma lui fa di tutto per essere criticato di tutto di più grazie a tutti e buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci e grazie